Riempiamo una ciotola con acqua fredda e spremiamoci dentro il succo di un limone. Questo eviterà che i carciofi, una volta puliti, diventino neri. Prendiamo un carciofo, tagliamo il gambo alla base e mettiamolo da parte. Ora, con l'aiuto del coltello spilocchino, sfogliamo il carciofo eliminando le foglie più dure. Queste foglie si riconoscono al tatto e anche dal colore perché sono più verdi. Arrivati al cuore del carciofo, quello con le foglie più tenere, sempre con l'aiuto di un coltello spilocchino, realizziamo il classico girello, eliminando la punta delle foglie e le eventuali spine. Infiliamo il cortello tra le foglie, tenendolo di traverso e procediamo con un movimento a girare. Così facendo, taglieremo la punta a tutte le foglie esterne. Immergiamo subito il carciofo nella ciotola con acqua e limone. E procediamo pulendo il gambo. Col coltello spilocchino, tagliamo via la parte più esterna del gambo. Effettuiamo questa operazione da tutti i lati, finché non rimarrà solo la parte centrale, che è di un colore molto più chiaro. Immergiamo subito anche il gambo e proseguiamo pulendo gli altri carciofi. Quando tutti i carciofi saranno puliti, possiamo passare alla fase di pulizia della cosiddetta barba. Tagliamo il carciofo in quattro parti. E con il coltello spilocchino, eliminiamo tutta la parte pelosa, con un movimento come questo, cercando di togliere anche le piccole foglie di colore violetto. E con il coltello spilocchino, eliminiamo tutta la parte pelosa, con un movimento come questo, cercando di togliere anche le piccole foglie di colore. Grazie a tutti.